Buongiorno, buongiorno! Ragazzi, oggi si inizia la costruzione della casa. Non so quanto tempo ci impiegherò. Comunque, per chi non lo sapesse, io ho 14 anni. Il mio nome non lo saprete. Lo saprete forse fra 20 anni. Ho 14 anni, quindi spero di non finire la casa tra 30 anni. La costruzione della casa procede senza soste. Il nostro amico voleva un luogo caldo e accogliente in cui dormiva. Il tempo passava e scorrevano i minuti, le ore, i giorni e finalmente, dopo 5 anni, ha terminato la costruzione della sua casa. E' cresciuto il nostro amico. E' cresciuto il nostro amico.